Campionato provinciale singolo over 60, questa è la semifinale, la prima semifinale. Pinelli, Carletti, la prima bocciata è stata di Carletti, ho ottenuto un birillo, due punti, Carletti, Bar Sport, Ventivoglio, Pinelli, Caffè del Sole 1, Carletti in maglia nera con striscia laterale, Arancio, Pinelli in maglia a Maranto, siamo all'Arci San Lazzaro e come detto questa è la semifinale, la prima semifinale del campionato provinciale, singolo over 60, stagione 23-24, Pinelli va con un po' di spinta ma non si sa se ha fatto il punto, c'è da guardare. Il punto è rimasto bianco, ora Pinelli gioca la terza di mano, ha perso la biglia di vantaggio, cerca di mettersi in mezzo tra la biglia bianca dell'avversario e il pallino, si ferma di fianco a pallino, comunque adesso il punto è fatto, tocca a Carletti, due spondi interne, cercherà di spostare pallino verso la sua bianca ma lo tocca appena e lo avvicina alla rossa quindi adesso dove giocare l'ultima. Anche questa mi sembra larga, decisamente, punto non fatto, punto che rimane. Pinelli, che adesso ne ha una in mano per chiudere, alla fine cerca di mettere a punto una seconda biglia, vediamo. Due biglie e quattro punti e alla bocciata ci va Pinelli. 8 punto di Pinelli 8 punti di Pinelli 8 punti di Pinelli 8 punti di Pinelli Gocciata è una specialità della casa. Torniamo in diretta, Carletti spinge il pallino a sponda, la sua però si ferma molto staccata. Il punteggio adesso come vedete è 12 a 2 per Pinelli, Pinelli andrà probabilmente al calcio della bianca. E lo prende di prima, il roraccio di Pinelli, adesso gioca la terza, anche questa mano. Non una biglia esaltante neanche questa. Carletti fa scivolare nel quadrante inferiore la biglia dell'avversario, adesso è a punto con 2, Pinelli ne ha una sola, deve difendersi da un eventuale tentativo di colore. Vediamo con quale strategia va allo stacco della biglia bianca per portarla nel quadrante inferiore. Carletti fa lo stacco della rossa perché non si accontenta di eventuali 6 punti, ne fa 2, abbatte un birillo, adesso 3 biglie 6 e 2,8 totali. E si porta a 10 e va alla bocciata. A vuoto, nulla di fatto, punteggio invariato, 12 a 10 per Pinelli. Due sponde per andare di misura o tentare di farlo almeno sul pallino. Pizzico stretta, non è proprio perfettamente sopra, ma comunque è sempre un punto impegnativo questo. Due sponde esterne di braccio, vediamo, ma mi sembra larga. non tocca neppure il bersaglio, adesso deve giocare la terza, sceglie la strada della brocca centrale. Se prende solo il pallino non fa il punto, infatti due brutte biglie di Carletti che non sta giocando benissimo. vediamo, vediamo di nuovo dalla brocca. Questa è forse dalla parte sbagliata perché adesso Pinelli ha la possibilità di... l'arga dei tanti, ma vedo che anche lui non tocca la sponda laterale al punto giusto per poter entrare e portare via il pallino verso l'altra rossa. Il pallino ci va, ma la biglia va davanti alla buca. Dò la brocca direttamente sul pallino, adesso cercherà di farne sei, cioè di mettere tre biglie appunto. Questo è un po'. E infatti... Tre biglie e sei punti si porta a diciotto Pinelli. A vuoto anche Pinelli, punteggio che rimane invariato, a parte il filotto nella prima bocciata di Pinelli, e per il resto... Pieri di zero, ora Carletti spinge il pallino a sponda ma la sua rimane staccata e invitante. Un altro erroraccio di Pinelli spaglia completamente la biglia. Poi si rifà... Sfortunato perché passa in mezzo, ma ne fa comunque tre, si porta 21. Ora Carletti... Carletti si mette bene. Giocata incomprensibile di Pinelli che toglie una biglia per evitare di subire il calcio, ma così può subire sia l'attacco che i sei di colore. In questo momento mi sembra che stiano facendo a gara chi gioca peggio. Carletti alla bocciata. Un birillo. Due punti. Si porta a 14. Si mette di fianco a Pallino. Pinelli e Carletti tentano un tiro di realizza da sotto, pizzica la biglia, il punto lo fa ma non fa birilli. Pinelli... Pinelli... Si mette sotto a Pallino... Pinelli... Pinelli... Enesimo errore di Carletti. Giocato la quarta miglia. Vediamo ora. Pinelli con spinta riesce a togliere la bianca dall'orbita del pallino. Altri 6 di colore. Si porta a 27. Pinelli ne ha sempre solo 14. Il suo avversario. Semifinale campionato provinciale over 60. Pinelli. Carletti. Pinelli maglia amaranto. Carletti maglia nera con bande arancio. Alla bocciata. Pinelli. Nulla di fatto anche in questo caso. Poi alla fine sfiora il brillo bianco laterale ma punti zero. Carletti spinge il pallino a sponda ma la sua rimane sempre in piazza come si suol dire. Stavolta Pinelli non cerca l'attacco ma va a punto e va a punto dietro a pallino. Carletti con spinta toglie la bagliabiglia dell'avversario rossa dall'orbita del pallino. Pinelli viene a metter un'altra molto più vicina e molto più complicata da togliere. Vediamo ora la scelta del suo avversario. Va di spinta ma sbaglia il tiro. Gioca la quarta e spinge il pallino verso la sponda. Il termine di questa mano. Noi passeremo avanti. Una sintesi questa. Pinelli fa il punto. Si va. Si porta a 29. Siamo ora 56 a 28 per Pinelli che va alla bocciata. Anche in questo caso a vuoto il pallino finisce in buca. Si mette vicino al pallino. Molto vicino. Vediamo. Pinelli andrà con un pizzico di spinta. Con un pizzico con tante spinta. Fa scivolare il pallino nel quadrante inferiore. Dalla brocca a Carletti tocca la sponda bassa risale sotto pallino. Finelli va con una spinta sul pallino. Finelli va con una spinta sul pallino e tocca la sponda bassa risale e lui fa il punto. Carletti si mette sul pallino. Tiro ad effetto di Pinelli. Punto rimasto bianco con la quarta biglia. Carletti cerca il realizzo. Nulla di fatto. Ora la bocciata ci va. Carletti una biglia e due punti. Si porta a 30. 56 l'avversario. Un birillo. Due punti. Si porta. Vediamo se c'è ritorno. No. Si porta a 32. Semifinale. Campionato over 60 singolo provinciale di Bologna. Questa è una sintesi. Pinelli e Carletti. Questa è sbagliata. Carletti va anche lui. Per il realizzo sbaglia il calcio. Fa il sottocalcio. Ne fa otto un tiro che merita di essere rivisto perché sono di quei colpi che non si vedono spesso. È chiaramente un colpo di fortuna. Vedete. Tira. Sbaglia completamente il pallino. Però pizzica da sotto perfettamente la riviglia dell'avversario. Torniamo in diretta da dove Pinelli tenta di nuovo il calcio e lo sbaglia un'altra volta. Carletti toglie il pallino da quella posizione che sembrava indigesta ad entrambi i contendenti. Sbaglia. Pinelli gioca la terza di mano, poi ne avrà ancora una. Adesso gioca l'ultima. Carletti. Si ha quasi la sensazione che il pallino scotti in questa mano. No, sto scherzando. Chiaramente. Una biglia per Pinelli che si porta a 56. Noi vediamo la bocciata, poi passiamo avanti. Nulla di fatto. Anche questa volta. Siamo ora sul punteggio di 62 a 42 per Pinelli e alla bocciata ancora una volta ci va Pinelli. per Pinelli che si porta a 66. Palle e pallino sopra Castello. 66 a 42 per Pinelli che si porta a 66 a 42 per Pinelli nei confronti di Carletti. Vediamo ora. Carletti va di spinta sul pallino che di conseguenza allontana la biglia rossa. punto largo ma punto fatto. Sponda laterale, sponda alta. Si appoggia sulla sponda alta ma non vicino a pallino. vediamo ora Carletti. Pinelli spinge il pallino verso l'altra biglia rossa sua che è a sponda. Si mette abbastanza bene ora Carletti che comunque è il meglio di vantaggio. va di spinta, pallino finisce in buca e quindi il punto è suo, forse c'è da vedere perché è così, a occhio, io poi ripeto, da lontano si vede giusto, il punto è suo. Pinelli cerca di mettersi di fianco a pallino, ci rende conto di aver dato un po' più di differenza del dovuto ma non puoi tanto, adesso la pratica da svolgere è abbastanza impegnativa, è di Carletti. Tiraccio di Carletti che oltretutto beve anche tre punti, ne concede cinque all'avversario che ne ha sessantasei e va a settantuno. vediamo la bocciata di Pinelli, poi andiamo avanti verso la parte finale di questa semifinale del campionato provinciale, singolo over 70, i punti erano solo 4 perché il pallino non ha toccato di prima Carletti, quindi 70-42, anch'io era stato tratto in inganno. Di nuovo 4, si porta a 74 e noi andiamo alla parte finale della partita. siamo ora sul punteggio di 76-44 per Pinelli alla bocciata Carletti, sfortunato fa anche lo metto di sotto e poi quello laterale, quindi due virilli 4 punti in una delle poche bocciate che è riuscito a mettere il pallino nel castello, è passato in mezzo, certo avrebbe migliorato ma la situazione che comunque è decisamente compromessa 76-46, sarebbe stato un 76-52, certo meno chiaramente però, sembra che questa partita abbia un destino già segnato, carletti va di due sponde esterne e non prende il punto, gioca la terza di mano. Stavolta stringe un po' di più ma tocca la rossa altrimenti sarebbe scivolata via pure questa. Pinelli, due sponde più quella bassa risalire ma questo è un tiraccio sbagliata anche di un po'. Questa, diciamo così, la direzione è buona ma la forza è scarsa, adesso gioca l'ultima, due brutte biglie di Pinelli che ora gioca l'ultima, lascia l'ultima in mano al suo avversario. Di nuovo per la terza volta, vediamo se stavolta, no, stavolta gli scivola al quadrante superiore, tre brutte biglie da parte di Carletti, di Pinelli scusate, quindi Carletti conquista il diritto alla bocciata e ne segna quattro, due biglie, si porta 50, certo, servirebbe il bottino pieno, no, niente da fare. A vuoto anche stavolta, poi Palino prende i due ganassili della buca alta e si ferma nel quadrante superiore. Pinelli va appunto ma non particolarmente contento della sua giocata, vediamo allora come risponde l'avversario, spinge il Palino verso la sua bianca che si mette di fianco alla buca, adesso c'è spazio tra il Palino e la bianca di Carletti, vediamo se Pinelli va a mettersi proprio lì, o perlomeno tenta di farlo, è un po' abbondante ma ci arriva, mano iperveloce stavolta, fino a questo punto, mette una bella biglia Carletti, Pinelli va di spinta e prende il punto. Non ha preso il punto invece quindi adesso gioca l'ultima. e si appoggia sul pallino spingendolo un po' avanti, ora Carletti ha l'ultimo in mano, deve almeno prendere il punto o non fargliene fare più di due perché altrimenti la partita è finita. Il punto era bianco, quindi 52 per Carletti, 76 per Pinelli. Se avesse sfruttato le opportunità, a parte una che è stato sfortunato e ha fatto lo metto di sotto con lo laterale, ma ha avuto altre due opportunità e ne ha avute in questo ultimo frangente di gara, probabilmente riusciva ad arrivare in zona chiusura, ma vuoto su vuoto non producono bigli e quindi 76,52. Adesso diamo Pinelli indeciso sul da farsi, due sponde laterali per mettersi sotto nel quadrante inferiore ma lontano da pallino per non fare bersaglio, per non dare la possibilità all'avversario di realizzare. Vediamo ora Carletti, si mette a punto, lui deve stringere per conquistare il vantaggio di biglia. Bello il tiro di Pinelli che si ferma vicino al birillo, non le avrebbe dato la chiusura, ma lo portava quantomeno a 79. Ora Carletti, tiro sponda lunga, sponda alta, nulla di fatto, vantaggio di biglia per Pinelli. Vediamo come svolge la pratica. Via la bianca dall'orbita del pallino, adesso Carletti deve metterci una gran biglia per evitare la chiusura dell'avversario, in realtà si ferma addirittura sopra. In finale ci va Pinelli.